Tutti i weekend i gol, l'importante credo che siano i tre punti, che ha fatto doppietta io, che ha fatto gol Gallano, che ha fatto gol con l'altro, non importa. Credo che sia importante dare continuità a questi risultati che comunque stiamo facendo ultimamente. Adesso bisogna subito pensare al Brescia perché lo sappiamo che partite facili non ci sono in Serie B. Se vogliamo fare un campionato importante dobbiamo cercare di fare bene anche fuori casa. Queste cose sono cose dei giornalisti che dovete dire voi, potete dire quello che volete. Magari oggi che ho fatto bene direte un sacco di complimenti, la prossima volta che sbaglierò direte un sacco di cose. Però non diciamo nulla, queste cose fanno parte del calcio. Comunque quando c'è da prendere i complimenti le prendiamo, quando c'è da prendere un po' di insulti le prenderemo e andremo avanti. Però bisogna sempre lavorare. Il gol di testa l'ho fatto se non sbaglio tre anni fa in nazionale. Credo che sia l'unico. Comunque vorrei dire una cosa, quando ho fatto il gol ho indicato la panchina perché è comunque uno schema che abbiamo preparato ieri. Quindi credo che sia venuto molto bene anche se ho tirato fuori il gioio oggi. Non lo so, diciamo che l'anno scorso è andata storto per tutti quanti perché dal momento in cui non si raggiungono i traguardi importanti dal collettivo anche l'individuale viene giudicato in maniera negativa. Però credo che non ha senso parlare dell'anno scorso e bisogna pensare soprattutto a quest'anno che comunque stiamo facendo bene anche se certe volte abbiamo perso certi punti che dovevamo sicuramente sfruttarli meglio. Però guardiamo avanti, guardiamo soprattutto a lunedì che abbiamo di nuovo una partita difficilissima. Su questi punti attivi stiamo soffrendo in una maniera pazzesca e poi se fossimo tutti giocatori di un metro e dieci sarebbe un discorso. Però comunque abbiamo delle bestie, non riusciamo comunque a capire cosa ci succede perché magari il primo calcio d'anno come oggi è per mezzo a gol. È difficile, oggi ci è andata bene perché ne abbiamo fatti quattro, però magari il giorno in cui ci andrà una giornata storta, non riusciamo a fare gol e rischia di fare un risultato negativo. Tu prendi gol dopo due minuti, non so se sono stati bravi certe volte magari anche l'avversario, però l'importante è che noi abbiamo rimontato e dobbiamo riparlare di nuovo di queste cose qua. Dal momento in cui ho tolto la maglietta prima della partita al magazzini, quando l'ho abbracciato, ho detto abbracciami che oggi mi devi portare bene e di conseguenza mi è andata bene. Questo va a lui e sicuramente alla mia famiglia che era in tribuna, la mia piccola, e c'era anche sul primo gol indicato alla panchina perché comunque è una cosa preparata e vale questo discorso per tutti i miei compagni che comunque lavoriamo molto bene tutti i giorni.